Buonasera, siamo qui con Mr. Valerio, appena concluso il match tiratissimo, veramente un'ottima partita da entrambi i lati. Volevo sapere le sue considerazioni e se ha qualcosa da aggiungere nella prestazione. Buonasera a te, caro. Non ho nulla da aggiungere perché mercoledì avevano già fatto una grande prestazione e con squadre così attrezzate l'unico modo per poterli fronteggiare è come abbiamo giocato questa sera. Tanta concentrazione, tanto sacrificio e un modo di giocare diverso da quello che abbiamo fatto fino adesso e infatti i ragazzi hanno reagito veramente alla grande. Perfetto, infatti penso che ci sia stata veramente... Sono molto soddisfatto perché pareggiare con... Cioè, meritavamo anche di vincere perché comunque abbiamo fatto un gol che ci ha annullato per errori dell'arbitro. Vabbè, ha messo da lui, abbiamo preso una traversa, abbiamo prodotto tanto gioco e questa è la cosa più importante perché ci fa ben sperare insomma per il proseguo. Un ottimo messaggio allora per il futuro, vediamo, speriamo bene allora e la ringrazio e alla prossima. Grazie a te, caro, grazie.